Bella regà, voglio incominciare il video ringraziando chi si è iscritto fino ad adesso al canale che questo viaggio non lo sto facendo io ma lo stiamo a fare tutti insieme infatti grazie anche a chi mi ha consigliato nel video precedente della metro C dove andare perché se non fosse stato per voi non so a che fine avrei fatto mi sarei perso per i campi di Torre Nova probabilmente perciò B se ama e se ancora non te sei iscritto iscriviti siamo alla quarta puntata, la prima abbiamo visto la metro B la seconda abbiamo visto la metro A, la terza abbiamo visto la metro C chissà che tocca alla quarta puntata vi ricordo che non scelgo io le metro dove andiamo ma l'estrazione è completamente casuale con un'app che ho scaricato vediamo che linea faremo oggi e dagli dei metro A Colli Albani, bella Colli Albani, la conosco Colli Albani la conosco perché ci sono mezzo cresciuto e voi direte, ma in ogni puntata c'è stata una zona dove sei cresciuto ah regà, mi sono frequentato tutta Roma Porta Furba, molto 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 carina a Porta Furba c'è stato un quartiere dove a me piace girare un sacco è un sacco suggestivo se penso a Balla Aurelia, penso a un bel vedere stavolta mi so capitare tre metro che in testa mi fanno venire in mente già il percorso da fare perciò De Cristo regà, sei parte bella per Porta Furba regà la fermata Porta Furba regà è la fermata del quartiere Quadraro il Quadraro secondo me è uno dei quartieri più sottovalutati di Roma che ha un sacco caratteristico, è un quartiere storico e ribelle perché fu uno dei quartieri maggiormente antifascista durante la seconda guerra mondiale non ha passato begli anni, ma è stato riqualificato recentemente dal progetto Muro infatti adesso il Quadraro è un vero e proprio museo all'aria aperta pieno di murales bellissimi, di street art infatti mu ve porti in giro a vederli un po' Quadraro nel cuore eccola questa che vi ho appena fatto vedere regà è un esempio di pietra da inciampo in tedesco stop sign credo che si pronunci così si chiama pietra da inciampo perché è un san pietrino in rilievo quindi se tu cammini, non te ne accorgi mezzo ci inciampi su questa pietra e dici dove sono caduto fammi vedere un attimo ti abbassi, vedi la pietra e cadi nel ricordo della Shoah in questo caso questa pietra è dedicata a Luigi Sabatini che evidentemente era una delle persone deportate a uno dei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale se pietre da inciampo fatte in ottone servono a non dimenticare quel brutto evento che è successo quasi 80 anni fa mo regà mi è venuta un po' a defame ho beccato un forno per strada che si chiamava l'antica ciriola mi fermo lì per un pezzo di pizza eccola regà pizza e mortazza buona però c'è sta poca mortazza regà c'è sta una fetta pizza e mortazza regà è sempre buona però se proprio devo trovare un neo era più pizza che mortadella mo però vi voglio far vedere il murales simbolo del quartiere il nido di vespe questo come vi dicevo è il murales simbolo del quartiere perché durante l'epoca fascista questo quartiere era chiamato il nido di vespe dato che era il quartiere simbolo ribelle contro il fascismo in questo murales sono rappresentate 7 vespe come i 70 anni dal rastrellamento della gestapo dentro questo quartiere infatti come vi dicevo regà il quadraro è un quartiere ricco di storia di arte un sacco caratteristico a me piace una marea mo ci muoviamo e andiamo a Cogli Albani allora subito fuori la fermata della metro mi avete detto di provare il bubble tea al The One quindi ci vado subito sta qua dietro e mi prenderò quello consigliato da te vediamo com'è l'unico bubble tea che ho preso in vita mia è al The Amo vicino al Pantheon però quello è un po' commerciale vediamo questo com'è con latte fresco tapioca caramellata spaziale le palline dentro che voglio di caffari sono fantastiche come se fossero concentrato di tapioca cioè assurdo mo me lo finisco tempo di arrivare al parco della Caffarella regà mo stiamo dentro al parco della Caffarella che fa parte del parco regionale dell'Appia Antica questo parco mi sta a cuore perché ci sono cresciuto poi qua dentro c'è sta una società sportiva che si chiama Polisportiva De Rossi dove ci ho passato un sacco di anni dalla vita mia se voi state a chiedere non è di Danielino De Rossi ma un omonimo questo parco è anche chiamato il parco dei conigli per un motivo è pieno dei conigli motoca in frattasse per i boschi e vi porto in un posto magico che nasconde una leggenda perché sappiate che anche nell'antica Roma ci sta una testimonianza di una storia simile a Romeo e Giulietta questo è il parco perfetto per passarci Pasquetta ti fai una bella sbraciolata senza piccare un incendio magari giochi a pallone due passaggi una magnata una bevuta e si vola comunque stiamo a dicembre sto schiattato al caldo infatti mo mi sono messo in maniche corte intanto vi racconto la storia che si cela dietro il posto che stiamo andando per vedere ci stava una volta un re chiamato Numa Pompilio e una sacerdotessa di nome Egeria questi due si amavano la follia però essendo uno un re e l'altra una sacerdotessa non si potevano frequentare per ciò che facevano si andavano a imboscare qui nel parco della Caffarella per consumare ciò che c'era da consumare per consumare il loro amore un giorno però Numa Pompilio morì e Egeria era distrutta da questo quindi che fece? tornò nel posto dove si incontrava sempre con il suo amore e pianse alla follia finché non si trasformò in una fontana ed è per questo che adesso ci sta il ninfeo di Egeria ed ecco il ninfeo di Egeria tra l'altro qua dietro c'è sta la fonte dell'acqua Egeria quella frizzante che sicuramente conoscete da adesso pensate quando berrete l'acqua Egeria vi state a bevere le lacrime di una pischella a questo parco mi piace troppo perché è pieno dei boschetti ma anche dei pratoni quindi te puoi rilassare puoi fare una scampagnata c'è sta tutto è ricco di storia dato che sta nel parco dell'appia antica e mo dopo un bel parco io vi direi di andare a vedere un bel vedere uno dei miei bel vederi preferiti di Roma da dove si vede il cupolone perciò se non avete mai visto Roma dall'alto andiamo a vedere Monte Ciocci alla fermata di Valle Aurelia ecchi c'è regà alla fermata Valle Aurelia se dici Valle Aurelia pensi solo a una cosa a Monte Ciocci per arrivare a Monte Ciocci passi prima sotto al ponte di Valle Aurelia dove passa il treno entri dentro la riserva di Montemario e poi ti aspetta una bella scalata una scalata letteralmente perché ci sono una marea di scale in realtà ci sarebbe pure il sentiero ma per farti appagare dalla vista devi faticare mentre fai la scalata già già un po' di vista ce sta madonna regà c'è il fiatone è arrivato in questo spiazzale una vista della madonna sul cupolone che regà mi lascia senza parole il tutto incorniciato dalla citazione dei colle del fomento ma dimmi quante volte hai visto il cielo sopra Roma e hai detto quanto è bello viettala a vedere dall'alto regà sta vista se la combatte con Piazzale Socrate non so se è meglio Monte Ciocci o Piazzale Socrate secondo voi? ditemelo nei commenti poi sono riuscito a venire qua alle 4 e mezza a orario preciso perché mo' ci sta il tramonto purtroppo Monte Ciocci a meno la scritta a faccia verso est ma ci sta un'altra vista qua dietro che a faccia verso ovest quindi mo' andiamo a godere il tramonto dall'altra vista perché naturalmente il sole tramonta a ovest sappiatelo regà non sarà un bel vedere sul cupolone su Castel Sant'Angelo sull'altre da la patria però regà fa sempre il suo effetto che vibe regà e io vi direi dopo sto bel tramonto su Valle Aurelia mi incammino verso casa e lì famo un bel recap finale per concludere sta giornata de Cristo ve dico in tutta sincerità che è stata la puntata più suggestiva delle 4 tre fermate bellissime oggi mi so fatto una passeggiata che consiglierei pure a un turista iniziando da Porta Furba col Quadraro che te fa una passeggiata tra storia e arte poi con gli Albani se ti piace la natura è il posto che fa per te col parco della Caffarella pure lì ci trovi un sacco di storia e ti rilassi al sole se becchi a giornata giusta perché oggi dicembre facevano 20 gradi tra un po' e infine Valle Aurelia Valle Aurelia c'ha il bel vedere di Monte Ciocci che fa invidia a tutta Roma sono veramente contento ma lo e ginocchia che mi bruciano vi ringrazio ancora per avermi accompagnato oggi continuate a iscrivervi e chissà se alla prossima puntata vengo in zona tua regà un bacione bella